Sì, anche se poi bisogna cercare di essere, insomma è quello che ci siamo detto in queste settimane con il gruppo, bisogna cercare di essere il più possibile maniacali e di porsi gli obiettivi importanti. Il rammarico è di aver preso gol e quindi non aver dato valore secondo me è un primo tempo straordinario. Secondo me è veramente molto molto importante per approccio, per temi sviluppati, per atteggiamento, per concretezza, per situazioni create, per situazioni non concesse, ma sicuramente veniamo fuori forti da questa partita e carichi per quello che ci aspettano.